Mi hanno telefonato, pronto? Buonasera, sono da Brescia, Alminia, e la sto chiamando perché la metto un po' a corrente della mia situazione. Mi hanno trovato l'emoglobina glicata alta per fare... mi hanno fatto fare un esame in più di quelli che facevo normalmente. Il diabete del glucosio il mio era 125 e l'emoglobina glicata era 6 e 7. La prima volta che me l'hanno trovata... Non è elevata comunque, 6 e 7 signora. Non è elevata. Finché sotto il 7 e 5 non è elevata. Comunque si può migliorare come. Mi dà una bella risposta. Anche perché quando ho visto questo esame che io non avevo mai fatto e non conoscevo, mi è stato subito detto da amiche che si è andata completamente in diabete. Questa è stata la risposta. Io già non sono amante né di primi né di pane, perciò non ho fatto fatica a eliminarli completamente perché io lei la seguo già da anni, perciò sapevo che era una cosa del genere. Però io le sto chiedendo adesso, siccome non ho mai avuto nessun sintomo e tuttora non ne ho, io eliminando quella roba lì. Poi dalla mia parte ho trovato un medico nutrizionista che non è al pari suo ma le somiglia molto e mi ha dato una buona dieta, ottima, dove posso mangiare se il pesce, carne bianca, verdura, niente di quella roba che ha detto lei di scartare perché non me l'ha messa dentro in dieta. L'ultima volta che io l'ho rifatta mi è andata a 5 e 9 con un 121 di glucosio. Cosa ne pensa? Lei stasera che cena ha fatto, signora? Ecco, stasera mi sta facendo una domanda perché stasera ho avuto una voglia matta di pane e me lo sono mangiato dopo sette mesi. Mi sono mangiato un pane, però era sette mesi che non lo mangiavo. Va bene, ma se lo mangia al mattino o a pranzo, signora? No, allora... Quando ha una voglia matta di pane non se lo mangia a cena, se lo mangia a colazione o a pranzo. Mi è venuto stasera... Lo smaltisce, signora. Mi è venuto stasera. Ascolti, io faccio una colazione. E si faccio una buona camminata adesso, oppure si faccio un bel percorso in casa. Ci saluti, si stacchi dal televisore e vado a ballare un po'. Ecco, stasera non sono andata a ballare perché mio marito era troppo stanco, altrimenti tre sere alla settimana noi andiamo. Eh, perfetto. Questo sì. Comunque io in questo modo posso stare tranquilla, cioè nel senso che... No, signora, lei deve portare quella sua glicemia da 120, la deve portare sotto almeno i 100. E lei ce la fa domani sera, si mangia una bistecca ai ferri, un bel piatto di carciofi. Ha detto che il suo sangue è il gruppo zero, signora. No, 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 il mio sangue è il gruppo A e H negativo. Va bene, si mangerà un piatto di catalogno, un piatto di scarola, un piatto di radicchio rosso, di bianca di Milano, ecco, o di zucchini cotti, non è tanto la stagione, ma ci possono stare. E basta, lei avrà la sua glicemia, signora, perfetta, dopo domani mattina. Io non la provo mai, eh. Non mi hanno detto di provarla. Beh, ma esce di casa, abiterà in un posto dove c'è vicino una farmacia, al mattino prima di fare colazione, si veste in 4-4-8, va a misurarsi la glicemia in farmacia e lo vede. Ecco, io però le volevo anche dire che da parte di mio padre, lui aveva tre sorelle, di cui due diabetiche e una, la mia paura è stata, e lo spavento forte nel dirmi questo a me, è stato che ho rivisto mia tria in coma diabetico. Sì. Da lì proprio mi hanno tagliato le gambe, non ho più mangiato né pizza né niente. Va bene. Perciò ho cercato di togliere proprio veramente più roba potevo. Sì. E vedo che vivo lo stesso. Ma infatti se no... Però le faccio notare una cosa, un pettegolezzo. Sono un po' ridicola quando esco a cena con i nostri amici, perché la loro risposta è, ma tu mangia che poi ti prendi una pastiglia. Eh sì, sì. Ma perché devo arrivare al punto di prendermi una pastiglia quando posso invitare? È bravo. Cioè, almeno finché ce la faccio. Siamo stati educati in questo modo, signora. E non è stato preso in considerazione, non è stato insegnato alle persone, e questo deve essere insegnato da quando si va all'asilo, che il bene più prezioso che abbiamo è la salute. E non c'è pastiglia, non c'è medicina, non c'è chemio, non c'è radio, non c'è chirurgia che tenga perché il sistema immunitario, quando si arrabbia, signora, fa dei disastri. Quindi, reghiamo dritti e fino a che ci è concesso di vivere, vivremo bene. Ogni tanto, come è sempre stato nella storia dell'umanità, ci faremo la nostra buffata e non cascherà il mondo e si vivrà bene, benissimo, senza grossi problemi. Le dirò che da quando ho tolto tutta questa roba ho perso quasi 10 kg. Ah, è bravissima. La ringraziamo, una bella, bella e intelligente. Vede bene. Ha detto bene la signora, è una cosa che un medico, in mezzo a tanti medici che sono un po' detrattori nei confronti della sua filosofia, ma forse lo sono più che altro per pregiudizio, più che per i contenuti di ciò che le dice, uno che abbiamo incrociato in questi studi ha detto che la grande novità di quello che dice lei si scontra spesso con il nostro modo di essere nelle società moderne. Lei ci impone o ci suggerisce una dieta in cui si devono togliere molte cose, invece nel modo di vivere all'occidentale siamo abituati ad accumulare, aggiungere e mai a togliere. Finché si potrà farlo. Se noi introducessimo questo concetto nella nostra vita, togliere, eliminare alcune cose sarebbe un sacrificio meno pesante. Perché tra un po' quando arriveranno i disastri sulla salute, come stanno già avvenendo, e poi addio, e poi forse sarà tardi. Perché una cosa che mi sono dimenticato di chiedere adesso alla signora, se lei ha dei figli, ecco, se ci sono dei genitori con il diabete, con le glicemie alte, come poco fa parlavo di quel signore che ha avuto il rene policistico, che il padre l'ha sviluppato a 60 anni, a 63, ha fatto le valigie definitive, e il figlio l'ha avuto un problema di 20 anni, di 20 anni. Bisogna stare all'occhio. Questo potrebbe essere il rischio. Ecco perché dovremmo veramente allarmarci per questi bambini, per questi giovanissimi che ammalano di diabete. Ma gente, ma adesso qua le coppie mettono al mondo, se va bene, se riescono a metterle al mondo un figlio, ma sapete che dramma? Che poi se lo trovano diabetico, che poi se lo trovano con l'artrite romatoide, che poi magari se lo trovano con delle patologie devastanti. uno, un unico figlio che a malapena sono riusciti a mettere al mondo. Che analisi amara, ma vera, della nostra società. Oh gente, le donne fino agli anni 40-50 mettevano al mondo 5, 6, 10, 15 figli, poi se ne morivano anche due o tre, chi se ne fregava. La selezione naturale. Esatto, la grande legge, la legge che governa la vita degli esseri viventi. Tre domande a Raffica, le pongo tra una telefonata e un intervento del pubblico. Se obesità e diabete, diabete a stadio ormai cronicizzato, diabete di tipo 1, quando è già nata una distruzione di queste famose cellule come sono beta del pancreas. Ah, la distruzione è cosiddetta totale, praticamente. Che finché è preso in tempo c'è la possibilità di rigenerarsi. Ma c'è una fase in cui non è più in tempo, per cui anche se intervenissimo con una dieta drastica non... No, no, ma si interviene. Io ho portato l'esempio di quel signore, abita nella provincia di Bergamo, che lui dopo 20 anni ha ridotto di due terzi l'insulina. Anche se il pancreas non è più funzionante. Anche se il pancreas non è più funzionante, perché una persona fa in modo che non introduce quelle sostanze, quegli alimenti che innalzano le glicemie. Abbiamo una telefonata. L'ultima cosa, ma me lo dice dopo, se c'è dalla natura qualche farmaco naturale che possa aiutare. Pronto? Pronto? Buonasera. 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 Lei? Buonasera, dottor Mozzini. Buonasera. Ascolti, io ho la diebete mellito. Sì. Ho 66 anni. Sì. Alla mattina, io me la misuro tutte le mattine. E c'è 154, 129, 124, 128, sempre al digiuno però. Sì. Sta prendendo farmaci, signora? Sto prendendo, quando mangio qualcosa oppure un pozzettino di pane, allora prendo mezza partiglia di diamicron. Diamicron, sì. Ecco. Eh, va bene, signora. Però gli dico che ho anche l'epatite C. Sì. E qual è il suo sangue, signora? Lo sa? Il mio è 0RH? Sì, 0RH positivo. Sì, signora. Eh, ma come abbiamo parlato poco fa, oramai penso che dovrebbe essere abbastanza chiaro il discorso, soprattutto poi per le persone di gruppo 0, che i cereali già li fanno male anche se non hanno il diabete, figuriamoci se ce l'hanno. Lei, soprattutto a cena, signora, si dimentichi i cereali, i carboidrati, si dimentichi le patate, le patate dolci americane, ma si dimentichi anche la frutta, perché anche la frutta, soprattutto le persone di gruppo 0, può elevare le glicemie. e si misuri la sua glicemia, signora, e come ho continuato a ripetere questa sera, e scriva bene, tenetevi un bel quaderno, bel chiaro, e ogni pagina la dedicate a un giorno, ci scrivete colazione, pranzo e cena, che cosa avete mangiato in quel giorno. e dopo due ore, magari vi bucherete le dita per una settimana, ma poi vi servirà per venire a capo di tutto, e dopo due ore che ha mangiato si fa il buchetto e vede che glicemia ha, e in più la misura al mattino appena alzata. E lei, signora, siccome le persone non sono tonte, ma tutte poi capiscano rapidamente, e vede che in certi giorni avrà la glicemia perfetta, e altri giorni avrà la glicemia più alta. Lei, per capire, va a vedere che cosa ha mangiato e viene a capo di tutto. Grazie, signora, auguri. Buonasera, signora. E attenta alle cicche, ai dolci, alle cose cosiddette senza zucchero, perché sono molto subdole. Nascono degli zuccheri occupi. La gente è tratta in inganno da tutti questi prodotti qua e niente, si trova poi che... Vorrei dire una cosa, che anche nei farmaci comunque ci inducono al consumo dello zucchero, perché anche nei farmaci vengono aggiunti. Ma anche nei farmaci la maggior parte... L'industria alimentare lo aggiunge in tutto. Ma nella maggior parte dei farmaci, ad esempio, l'amido di mais è presente quasi dappertutto. È vero. Il lattosio è presente quasi dappertutto. E sono più presenti questi due che non i saccarosi. Perfetto, non ho capito se mi hanno fatto cenno. Sì, che c'è la sosta pubblicitaria. Se hai qualcosa... No, io volevo dire che bisogna stare proprio attenti al pasto serale. È questo. Le persone si devono mettere in testa due o tre concetti fondamentali. Il pasto serale è il pasto più importante. L'attività fisica durante il giorno è fondamentale, ma soprattutto fare una buona camminata, piuttosto che no, fatevi un percorso in casa da girare attorno a tavole o a sedie o via dicendo. Entrate e uscite da una casa dopo aver fatto tutti i perimetri di tutti i mobili. Fate le scale a piedi. Fare le scale. Fate tutto questo qua. Ma soprattutto a cena state attentissimi. Perché è proprio qua che ci sono delle carote. Le carote. Perché anche le carote hanno un discreto contenuto di zucchero. Finché mangiate le carote crude non succede niente. Se mangiate le carote bollite non succede granché. Ma se fate le carote al forno o se fate le carote saltate in padella, a volte nelle persone molto molto sensibili si concentrano questi pochi zuccheri e voi vi trovate ad avere una glicemia elevata grazie anche alle carote saltate in padella. Molto giusto. La cottura, ad esempio, cuocere le patate con la buccia vi regala un indice glicemico più basso che la patata spellata. Oppure la patata al forno è molto più zuccherina. Sì, perché c'è la perdita di liquidi e uno a parità di peso mangia più carboidrati. Ad esempio, la pasta è sicuramente bandita, però se proprio volete peccare, gli spaghetti al dente sono meno dannosi di un'altra pasta. Perché stanno meno nell'acqua e recuperano meno dell'oramica. Più scotta e di altro tipo. Tra gli alimenti, qua finora non abbiamo parlato... È come il caffè ristretto rispetto al caffè lungo, no? C'è la quinoa, che si scrive con la Q, Q-U... L'abbiamo vista tra le presentazioni... Quinoa è un seme che ha origine dalle chenopodiacee della stessa famiglia degli spinaci, delle erbette, delle barbabietole rosse e praticamente tra i cosiddetti primi è quello che ha il più basso indice glicemico. Però se uno la mangia a cena, anche con la quinoa, la glicemia... Non va d'accordo. Il problema è la cena. Lo vado a cercare. La quinoa quindi non è un cereale. Ma lì difficilmente ci sarà su. Scommettiamo? No, no, provi, provi. Dopo la pubblicità ne perdiamo.